Noi ci troviamo ad aver calendarizzata una manifestazione, un evento importante con 120 operatori in Prato della Valle per il 27, il 28 e il 29 settembre e gli stessi operatori che dovrebbero partecipare a questo incontro praticamente ci dicono di aver ricevuto una mail, una mail pesante da parte di Ascom Commercio Fiva e Ascom Padova mail con la quale si ricatta gli operatori e gli si dice in maniera molto chiara che se parteciperanno a questo evento programmato in Prato della Valle per loro non ci sarà più posto per partecipare alle manifestazioni organizzate da Conf Commercio in altre parti d'Italia. Questo lede un diritto costituzionalmente garantito che è la libertà al lavoro che è la libertà alla libera impresa, alla libera concorrenza. Quindi noi chiediamo dei chiarimenti perché crediamo che sia inaccettabile un ricatto, un'intimidazione di questo tipo. Anche perché questo serve per promuovere il territorio ma anche rilanciare il commercio. Il nostro fine è proprio questo. Abbiamo organizzato questa manifestazione per rivitalizzare il commercio in città abbiamo avuto la prova provata perché non è la prima che organizziamo che nel momento in cui vengono pianificate delle manifestazioni di questo tipo la gente viene in centro, passeggia con la famiglia, acquista e quindi è un modo per tenere il centro storico vivo, dinamico come lo vogliamo noi ma certo questo deve essere fatto senza ricatti e quindi noi ci schieriamo sin da subito a fianco dei venditori ambulanti che parteciperanno a questo evento perché riteniamo appunto che non debbano essere lesi i loro diritti di poter scegliere liberamente cosa fare e cosa non fare.